Ciao a tutti crittoni, io sono Maglocraft. Oggi siamo qui nel secondo episodio di Cat Morio! Cat Morio! C'eravamo lasciati qui dal... madonna... Non lo voglio... no? C'eravamo lasciati qua... C'eravamo lasciare questo, far morire effettiva, poi... spiegare che morire nel modo giusto. Ok... Potrei farla... BERBIDA! Allora ho scoperto che questo fottuto gioco non ha dei progressi. Quindi ho trovato un trucco per fare lo skip level, ma non giusto il checkpoint, quindi... Ho fatto un po' di tentativi come volete per arrivare a questo checkpoint qui. E devo dire che come uno, come primo livello, insomma, non mi sta neanche tanto... Non mi sta neanche tanto facendo sclerare per il punto, forse... E... Niente... Che cazzo... Vabbè, spero che mi ha detto che mi ha fatto più da tutto un rumorone enorme. Non so che ci sia... qualcuno che riguarda... Fai lì, muoviti tu! Il tanto del profitto col dirvene è che voglio cominciare l'inesima serie sul canale, ormai... Oddio no! Faglio nel buco! Neanche volete... Madonna santa! Ecco, cadendo nel buco, quello che volevo dirvi è che ho intenzione di cominciare un'altra serie l'inesima sul canale, e quindi diventerà una serie che io definisco serie stabile, perché... Per esempio, Cat Mario la definisco serie... ...questo non stabile. Una serie stabile saranno la Ultimate Craft e la... E la Ultimate Craft sarà la Night of Magic Craft, MENTRE! Se you like! Mentre come serie non stabile, insomma, come serie temporanee, più domanda, definisco Slender perché... Invece che, insomma, dopo un po' finirà prestissimo e poi non è che lo facciamo più spesso, ma... Come che tu... No, che domani sei in istante, ho detto... Che stupido! Ecco... Come è che i più santi, insomma... Vedete che da un bel fatto non l'ho fatto mai, ho già registrato due o tre episodi... Un'altra serie stabile che voglio cominciare, se riesco a scaricarlo... ...in modo legalissimo, perché l'ho pagato... Sarà... Assassin's Creed 4... Magari a alcuni non può piacere, ma... Non è tutto il caso del gioco, sinceramente. Ho visto qualche temer... E a me... Un po' non sono quelli... A me piace un po'. Ecco... L'ho già visto la scorsa volta. Sto usando questa serie... Magari non dico che adesso ho fatto alcuna sulla nota... Come... Sperimentazione, detto... E tipo... Ok, forse questa volta ce l'ho fatto. Ecco... Dicevo come... Eh... Sì! Sì! Anche se cosa segue adesso... Allora... Dicevo come serie... Ecco... Avete conosci... Sì... Madonna... Ne ho sparati fuori migliaia! Cazzo! Funculo! Ecco... Dicevo... Sto usando questa serie come esperimento per... Per tagliare... Lo vi ho detto... Vabbè se l'ho già detto lo vi dico... Che... In quanto riguarda il taglio... Come esperimento per... 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 L'ho giàaa... Per... Per gli... Per gli esperimenti. Dai... Tagliare... Insomma... Supp готовo... Per... quindi allora possiamo farcela non c'entri niente? non c'entri niente? devo trovare un antistress perché ho appena detto che all'inizio non mi facevo scollerare ma mi sto facendo giusto un po' in caccia quindi oh oddio che cosa epica dai muori oh no cadino in buco cadino in buco bravissima mi voglio cominciare eh mi ha messo abbastanza male giusto un po' ok ho notato che qui ci sono meno trappole di quelle qui a un fermario perché in generale uno al centimetro quadrato e particolarmente ho notato meno spine e un po' più magari blocchi non più di si due ma non fa male ma anche tanti blocchi che si accendono si spengono da nulla più che spine che vengono su e vabbè e infatti questa parte è particolarmente malefica in questo momento voglio avere che ne so un'attività che paga da scopicciare no 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 fa culo ah ok adesso ci provo lo vedete quel blocco lì quel blocco lì aspettate adesso faccio vedere quale quello che si genera in questa parte qui dello schermo insomma no è assolutamente malefico modon ecco esattamente questo qui bella raga ce l'ho fatta ti prego cadi bene perchè sennò potrei spararti merda prego muori uomo schiacci ah porca madonna 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 se non ho capito come si fa perchè ce la sto facendo tantissime volte io ti voglio bene porca troia mazzucca la quarta volta che mi faccio io faccio intanto non ho fatto in mano perchè è andata in tutto un po' male ehm 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 muori male oddio santo carino il buco carino il buco guarda 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 questa è anche la volta buona mazza 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 chi dica la volta buona mazza ok calmo 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 c'è la cosa non ce la posso fare no fanculo ok respawnato è qua lui funzione è un po' della madonna madonna come li salta come li salta fa scendere il no lo so qui madonna anche lo scalino non ho fatto apposta madonna no no vai via si si è la volta buona per lui è la volta buona per lui non cadere prego no no ho preso il blocco l'ho tagliato benissimo eh cosa ho fatto perchè no no madonna questo gioco lo odio ragazzi comincio a odiarlo madonna ah tra l'altro ho visto che magari di calmo parlando scrivetemi nei commenti se vi piace questa cosa della webcam della webcam della webcam viene rato una pausa ma sono e poi sono anche qua capite come bene 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 questa potrebbe essere veramente una volta buona di nuovo si si allora che la merda verde non toccarle neanche ok adesso però mi ha fatto passare madonna si 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 ok ok no 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 devo andare sopra devo andare sopra ho capito ok ok penso che devo andare sopra chissi no 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 non mi vedrete sclerare stavolta non mi vedrete sclerare SESSURA HAHA Che dite voi ce la faccio? dai 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 caditi cadimo no no è fatta no non ce la posso fare raga non ce la posso fare non ce la posso fare io che bravo io mi sento veramente DOCUMO quel blocco di merda sempre sempre questo si è no allora no 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 restando calmo in teoria restando calmo in teoria dai dai potrei avere tante che merda che merda oh no no bravo grazie ok ok oh ok si 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 madonna madonna si si madonna si si madonna chiede ah io non mi ricordo non ci è toccata vedete io non mi ricordo no non volevo prenderla non sai O vieni tommo? Ah si, questa roba è un po' migliaia Non lo trovate mi è passato un centimetro Sì Attenzione Attenzione anche lui, attenzione anche lui Vite meno? Minutante passa, ma se ne toglie Prende il fungitto, Prende il fungitto Prende il fungitto Sì Si Si Ho cariché bene, ho capito come farlo cariché bene Forse dopo 20 anni E' qui dove ci sono le palline rosse che non capisce ancora cosa cazzo, sono merda Ok ragazzi, sono morta per l'inesima volta, infatti non ce ne ho capito, ma ci ho capito una cosa, ho voglio testarla insieme a voi Ragazzi, non ce la faccio più a separare quel punto, è credibile Visto? C'è stato quel blocco in un vento, le polle Allora, abbiamo finito di dire che non ce la faccio, ce la faccio Allora, tipo io, quando quel tipo è il terzo blocco, faccio mortire le cose, non ciò che dovrebbe cambiare bene No! Allora, quando ci sono problemi, non ci sono problemi, non ci sono problemi Ma qualche è quella luga, dopo che io ho quello che faccio più a lungo, la stella faccio più No, aspetta, vieni qua, sei, bellissima stella Stolta mi si racconta perché ho un portiere a capo Ma qualche è la capo, alcune volte, non so se l'ho fatto una volta anche filmando La stella tipo mi ha faccio più a lungo Allora, devo prenderlo quando è al primo blocco qui, no? Allora, devo prenderlo quando è al primo blocco qui, no? Allora, devo continuare bene Allora, ecco Facciamo un portiere Porca troia Vorrei far notare vite Meno 101 Attenzione La critica dei meno 101 l'attacco, vaffanculo Ok, ragazzi, l'ho fatta Non è giusto Perché a me questa testina credere Porca troia Stanculo No Stanculo No No E no No C'ero Cerco Lo scuondo Stucchio Allora Questa è quella selenica Chapter Un picc'è su Guardare, allora wow Adesso non mi suo uccido ma L'教ito Sei potuto consistenti Mi ha andato fortissimo Cos'è? Cos'è? Dammi qua, vedi? Stuc! No Sì, però lo fa notare, adesso non si vede Però ho vitemine 101, che cade bene? Che dite voi ce la faccio? C***o, lo so tutto Forse... no, non soltanto la direzione Ma non ci provo comunque C***o, Madonna Allora Io direi che ci provo un pochettino con voi Per farvi praticare alla mia sofferenza Mucca C***o, donna Mi sento veramente Madonna Odio questo giorno Non è questo tipo di fatto Prendere il cingolo al secondo E diventa un po' di evito Mi spazio, è molto Può Beh, se ne ho alcune Di cosa faccio? Non è un pochettino Allora Devo restare calmo Perché? A forza troia Restando calmo in teoria Restando calmo in teoria Potrei avere più ciancia Di farcela Questi giochi sono fatti Possono farti sperare Ma poi Non farti sentire calmo Quindi Regione? Oh, oh, oh Ma come una Questa è lì? Oh, ma che magliate? Credo Ok, ok Calma, calma, calma Sì 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 Madonna Sì Ok Bisogna smetterla Quanto finirò Questo mi rende un battiglio Madonna Sto vuol prenderlo Ok È tutto fottutamente reale Io non ce la faccio più, raga Posso imparare la scusa Tipo Lo fare lo speed level Lo fare la scusa E l'ho fatta a camera E l'ho fatta In Mario Mi spiace Ma se la stessa volta ce la faccio No Ok Ok Non so ragazzi che la mia voce è un tono un po' strano Ma sapete com'è? Dopo 1 Ma vaffanculo Dopo 1 ora che si gioca a questo fottutissimo gioco Si comincia Capite com'è? Adesso mi faccio tutto la cazzo Cioè mi stanno dicendo che ho fatto miliardi di play con i complicati Conoscendo che passano a fare tutto a cazzo Cioè spiegatemi Sono stato qua un'ora Una fottuta ora A provare E poi scopro che facciamo la cazzo C'è anche Perché lo sto facendo la cazzo Ce l'ho fatta 3 volte di più Quindi o voi mi state prendendo il po' di giro Oddio Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Bisognava andare sopra Io? Mi sento bella questa cosa? Forse ho capito Guarda che a cazzo devo fare FANCULA! Forse lo ca- Sto impazzendo Sto veramente impazzendo Ho cominciato il video dicendo che Cat Mario non fa sclerare Non fa sclerare Nooo Allora, è normale che sia stato bloccato Fottutissimi 30 minuti di registrazione e fottutissime 2 ore il livello Fottutissime 2 ore il livello Nooo Si Conoscendomi tutto è possibile Basta ragazzi, basta E poi il bello è sapere che io sto facendo tutta sta cosa per niente, perché poi lui non lo salverà il podcast Poi gli altri Dai! Non ce la vuoi fare? Non ce la vuoi fare? Non ce la vuoi fare? Sono seriamente intentato di fare lo skip level Ah Vabbè raga Non veramente lo ce la cazzo sto facendo qui Oh oh, cosa è successo qui? Non ce la faccio Sì, sto faccio Ragazzi, che fatica... io ho quasi quasi chiudere l'episodio quindi vi ero a Merlocraft vi ringrazio moltissimo per la visione se avete gradito l'episodio anche se sinceramente a me che vi di strada ha fatto cambiare se avete gradito l'episodio vi invito a lasciare un mi piace a condividere questo video con chi volete e se vi è fatto ridere ridete insieme a me perché io sto benvenuto madonna l'ha fatto giusto proviamoci un'ultima volta raga e poi spegniamo oh si si no no madonna sta cadendo tutto no no cazzo adesso voglio provarci un po' l'ho per la perché adesso mi sento troppo qui cazzo cazzo madonna perché lo sto facendo questo burro masochismo che ti mario dicevo io vi invito a lasciare un mi piace condividere il video e fare tutto ciò che volete basta che sia qualcosa per supportarmi perché veramente in questi primi in questi primi tempi in questi primi in questi primi del mio canale YouTube un like è sempre veramente credito e vi ringrazio se non mi piace oh si decisamente up se viene ancora un wicket mario si distreggia si dalla merda verde qui non so quando saltare perché ho una paura fottuta di perdere come in questo momento Quindi, vi invito a lasciare un mi piace, condividere i video e fare quel cazzo che volete. Io vi rimando i prossimi video che caricherò, così potrete restare sintonizzati. Madonna! Cazzo l'ho preso! Così potete restare sintonizzati sui miei prossimi scleri. Diventa a seguirmi sulle mie serie su Minecraft, particolarmente sulla Ultimate Craft e su Patch Magic Craft, perché sono quelle che tengo di più, che sono serie moddate. Quindi, se siete fortunati ce la faccio adesso, continuiamo il video e se no no. Ma penso proprio che no. Ecco, va il culo. Quindi, io vi rimando i prossimi video che caricherò e ciao ragazzi! E ciao ragazzi!